Continua ad interessare il caso delle cartelle di pagamento a seguito degli accertamenti sugli anni 2013-2017 per il canone dell'occupazione del suolo e delle aree pubbliche e sulle pubblicità. I rappresentanti della Lega di Alatri chiedono l'eliminazione della cosiddetta COSAP e provvedere, tramite un professionista, ad un controllo specifico degli importi. La semplice richiesta di riesame per autotutela, scrivono, non basta a concludere l'iter accertativo delle cartelle, in quanto il cittadino non fa altro che segnalare all'amministrazione, in questo caso la 3S, l'errore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed eventualmente ad annullarlo. Chiedono inoltre di capire se effettivamente l'importo richiesto corrisponde al vero. I rappresentanti della Lega propongono all'amministrazione comunale, proprio per rimediare a questo errore e a questo incombente, l'eliminazione del canone sull'occupazione delle aree pubbliche. Il sindaco e l'intera amministrazione dovrebbero sentire l'onere di rimediare a questo errore, proponendo l'eliminazione di questo balzello che molti enti hanno già cancellato, proprio perché inico ed ininfluente. Ci risulta che, conclude la nota, l'importo iscritto in bilancio sia di modico valore e proprio per questo occorre un segnale nei confronti della cittadinanza. Un segnale anche per riaccreditare quella fiducia nella politica, che purtroppo è venuta meno. Maggioranza e opposizione insieme possono trovare un punto d'incontro sul tema, magari eliminando le prime due tipologie del regolamento comunale, cioè i passi carrabili e l'occupazione di spazi pubblici con cartelloni o altri mezzi pubblicitari.